Buongiorno a tutti, innanzitutto un bel consiglio per gli acquisti, è uscita la seconda raccolta con le seconde 9 puntate del Passaparola, questa si intitola Senza Stato né Legge, lo dico perché ci autofinanziamo con questo spazio e quindi è giusto far sapere che chi vuole, chi è interessato a conservare la serie dei nostri interventi, magari anche perché trova qualche difficoltà di collegamento o di linea, lo può fare, li può trovare in buona definizione. Quindi lo segnalo perché ci manteniamo così e se qualcuno ci dà una mano possiamo continuare anche in futuro a mantenere vivo questo spazio. Questa settimana parlerei di un signore, anzi due, ma uno è legato all'altro, non esiste l'uno senza l'altro, che stanno terremotando quel poco che rimane ancora di opposizione o di presunta tale in Parlamento, cioè di questa coppia d'Alema e la Torre, che sono un po' come i fratelli Santo Nastaso, sono un po' come Gianni e Pinotto, viaggiano sempre in coppia, una volta uno era il capo, l'altro era il portaborse, poi a un certo punto il portaborse fu emancipato, fu promosso e divenne addirittura senatore e poi addirittura vice capogruppo del Senato, dei DS al Senato e adesso in questa legislatura vice capogruppo del PD al Senato, è la più alta autorità dopo Anna Finocchiaro dell'opposizione, quindi immaginate come siamo promessi. Questa è la Torre, due anni fa, anzi tre anni fa, l'estate del 2005, fu beccato con i pantaloni in mano praticamente, mentre allenava a bordo campo due dei tre scalatori delle scalate dei furbetti del quartierino, quello che stava aggredendo il Corriere della sera a Ricucci e quello che stava aggredendo la BNL, consorte, mentre D'Alema fu preso soltanto mentre collaborava alla scalata di consorte, cioè di Unipol alla Banca Nazionale del Lavoro. Oggi i due stanno tornando a far danni, non in ambito finanziario, stavolta lì hanno già fallito, tant'è che la BNL non è passata all'Unipol, i loro sforzi si sono rivelati vani, oltre a essere dei poco di buono sono anche dei noti cialtroni e quindi non riescono poi a portare a termine neanche le loro furberie, ma oggi stanno creando danni perché la Torre naturalmente è quello che ha screditato, ammesso che ce ne fosse bisogno il PD andando a scrivere i testi su un pizzino al suo omologo dell'altra parte, al vice capogruppo del centro del Partito delle Libertà, del Popolo delle Libertà, Bocchino nella famosa immagine carpita omnibus sulla 7, quando Bocchino è in difficoltà la Torre lo soccorre e questo ha prodotto un certo terremoto nel PD, visto che certe cose si sono sempre fatte di nascosto, certi soccorsi rossi o rosè si sono sempre prestati al centro-destra, ma senza farsene troppo accorgere, stavolta era proprio sotto l'occhio delle telecamere, ci voleva un'intelligenza come quella di La Torre per arrivare a tanto e meno male che è successo, così almeno anche gli scettici possono vedere, non quanto siano uguali, perché non c'è niente di uguale tra PD e PDL, quanto sono complementari, come dicono Veltri e Oliviero Bea, l'attuale maggioranza e l'attuale sedicente opposizione targata PD. Devo dire che se si facesse in Italia l'attenzione che si dovrebbe prestare all'immediato, non dico al passato, all'immediato, all'attuale già bastavano e avanzavano le telefonate di La Torre e di D'Alema con consorte e per La Torre pure con Ricucci per tagliare corto e dire questi hanno fatto abbastanza danni, rimandiamo a casa. Invece no, ci è voluto un pizzino per capire chi è La Torre e naturalmente vedrete che questo pizzino verrà prontamente dimenticato e perdonato nel giro di pochi giorni, proprio perché da noi non paga mai nessuno per le sue malefatte, pensate soltanto a quante centinaia di migliaia di voti hanno fatto perdere questi signori con le scalate bancarie nella campagna elettorale che Prodi cominciò nell'autunno del 2005 in largo vantaggio e poi assottigliò fino al punto di pareggiare contro Berlusconi nel 2006, era la campagna elettorale nella quale giustamente i giornali di Berlusconi usavano le intercettazioni di Fassino, abbiamo una banca, sputtanamento che poi proseguì quando uscirono quelle di D'Alema e La Torre, in cui D'Alema addirittura, come vedremo, diceva a consorte facci sognare. Questi danni non sono mai stati pagati perché nessuno ha mai fatto i conti con quella stagione. D'Alema, che non è stupido, capì quando uscirono queste telefonate l'anno scorso, quando la Forleo le trasmise al Parlamento, che la base era completamente sconcertata, che bisognava tirarsi da parte per un po' inabissarsi, come si dice in Sicilia calati iuncu che passa la china, calati giunco che passa la piena, in modo che la gente dimenticasse. Oggi abbiamo dimenticato, ecco perché ne parliamo a promemoria, bisogna rifare memoria di quelle telefonate perché nessuno ci ha mai fatto i conti e nessuno ha mai pagato il pedaggio. Intanto di cosa parliamo? Parliamo del fatto che nell'estate del 2005, protetti dal Governatore Fazio e dal Premier Berlusconi, ma anche dai vertici dei DS e della Lega Nord, una masnada di avventurieri, rider, speculatori, immobiliaristi, palazzinari, decide di mettere le mani su un pezzo dell'editoria, la più grande casa editrice politicamente indipendente, la Rizzoli Corriere della Sera e su due banche strategiche come la Banca Nazionale del Lavoro a Roma e la Banca Anton Veneta a Padova. I scalatori agiscono in apparenza su tre fronti, in realtà sono tutti incrociati fra di loro perché le tre scalate in realtà sono una sola che si propone di ridisegnare a immagine e somiglianza di Fazio, di Berlusconi, di D'Alema e di Bossi un pezzo del capitalismo e un pezzo dell'editoria italiana, le mani dei partiti che ormai sono vassalli di questi finanzieri su un pezzo di sistema bancario e un pezzo di sistema dell'informazione. L'operazione non riesce perché fortunatamente c'è la Procura di Milano che chiede le intercettazioni azioni e fortunatamente c'è un GIP come Clementina Forleo che le concede per cui vengono tutti presi con le mani nel sacco e con il sorcio in bocca, con la coda che usciva ancora dalla bocca, mentre stanno violando tutte le regole penali e di borsa che impongono, come sapete, a chiunque voglia prendersi un'azienda rastrellando le azioni, di dichiararsi e uscire allo scoperto quando ha raggiunto il 30% del controllo azionario di quell'azienda. Vuoi comprarti una banca? Quando arrivi al 30% devi dichiararti e lanciare l'Opa, il resto delle azioni lo devi comprare sul mercato pagando le azioni, ovviamente di più, perché se dichiari di voler comprare una società il valore delle azioni sale, i risparmiatori che hanno le loro azioni le vedono sopravvalutare, te le vengono a vendere, tu le compri e ti assicuri la società con benefici per tutto il mercato, così funziona una borsa democratica in un sistema di libera concorrenza. Così dice la legge Draghi, invece questi furbastri qua non volevano lanciare l'Opa e quindi accumulavano pacchetti azionari all'insaputa del mercato, addirittura, visto che non volevano neanche tirare fuori i soldi, per esempio consorte, assicurandosi che le azioni della BNL le prendessero cooperative, società di prestanomi, finanziarie, amiche sue, senza vendergliele, perché sennò lui avrebbe dovuto comprarle e non aveva i soldi, ricorderete che l'Unipol era grossa un quarto rispetto alla BNL che voleva comprare, era una pulce che voleva mangiarsi un elefante, quindi per controllare l'elefante la pulce si mise d'accordo con altre pulci perché ciascuna tenesse il suo pacchetto lì e occultamente restasse alleata con lui, perché? Perché c'era un altro pretendente a rilevare la BNL ed era il Banco di Bilbao, il BBVA dei Paesi baschi, il quale naturalmente, come prevede la legge italiana, avevano lanciato la loro OPA e quindi stavano la loro offerta pubblica sulle azioni e stavano aspettando di vedere chi entrava nella rete. Loro compravano pagando, lui, consorte, faceva il mosaico delle pulci per arrivare al 51% senza doversi dichiarare e quindi senza dover estrapagare queste azioni in barba alla legge Draghi. Questa è l'accusa che viene mossa a lui, come viene mossa a Fiorani per la scalata della Popolare di Lodi all'Antonveneta, come viene mossa a Ricucci per la scalata al Corriere della Sera, anche se Ricucci perlomeno, pur avendo l'accusa, tradito e truffato in mercato borsistico, i soldi almeno ce li metteva lui, era molto liquido Ricucci con le sue compravendite mirabolanti di immobili. Arriviamo nell'estate del 2005 quando naturalmente si creano delle difficoltà e quindi chi interviene a sostenere consorte da una parte e gli altri furbetti dall'altra? Intervengono i politici, i politici non sono i padroni dei finanzieri, sono i finanzieri che sono i padroni dei politici, i politici ormai sono delle specie di agnellini, di cani da compagnia, di cani da riporto che però possono servire per fare questo o quel favore, ma comanda il finanziere naturalmente e quindi abbiamo questo consorte che parla con la Torre e con D'Alema che sono i suoi referenti al vertice dei DS, anche se i DS in quel momento avevano come segretario Fassino, il povero Fassino, ricorderete, nelle telefonate fa la figura del pirla, fa la figura che fa sempre il cornuto, che è l'ultimo a sapere le cose, a Fassino lo avvertono a cose fatte perché dicono tra sé e sé, tanto lui non capisce, invece quelli che stanno nel centro, nel cuore dell'operazione insieme a consorte sono la Torre e D'Alema e infatti spesso la Torre passa il telefono a D'Alema della speranza che così D'Alema sia immune da intercettazioni, pensate che intelligenza, quello che dici viene impresso, sia che parli su un telefono, sia che parli su un altro, il fatto poi che fosse intercettato il telefono di consorte fa sì che D'Alema potesse cambiare tutti i telefoni di questo mondo, ma intanto comunque quello che diceva finiva sempre nell'intercettazione sul telefono di consorte. Questi politici passano per dei geni e in realtà sono talmente stupidi che uno fatica a credere che siano così stupidi, pensate soltanto a quando D'Alema viene a scoprire, non si sa da chi, grazie a una fuga di notizie che nessuno ha mai chiarito, che ci sono i furbetti del quartierino e addirittura il Governatore Fazio sotto intercettazione, si ha fretta ad andare a avvertire con sorte di stare attento alle telefonate e come lo avverte? Telefonandogli sul telefono intercettato, pensate che uno dice ma cos'è un idiota? No, è il politico più intelligente che abbiamo, quindi figuratevi gli altri. 14 luglio 2005, anzi no, partiamo da prima, siamo al 5 luglio 2005, la torre chiama consorte, dimmi tutto caro, allora come stanno le cose? Consorte, stiamo così Nico, diciamo che domani il giorno chiave, perché l'ingegnere, Caltagirone che aveva azioni BNL che loro speravano si schierasse con Unipol e i suoi accolliti si sono defilati e vogliono vendere, allora ci sono due problemi, primo il prezzo, gli abbiamo offerto 2,60 Euro ad azione prendere o lasciare la torre, ma che prendete il 26% di BNL con questi? Il 27%, Caltagirone aveva il 27% della BNL, minchia, dice la torre, naturalmente 2,6 Euro non è trattabile etc., 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 a un certo punto la consorte dice, comunque è una cosa che voglio parlare con te e Massimo, cioè con D'Alema, a parte, il problema adesso qual è? Queste quote le devono comprare terzi e già il 27% di BNL che buon signore vende, mica se lo compra la consorte, sennò dovrebbe tirare fuori i soldi e non li ha. Allora la torre dice, certo non le potete prendere voi, mica potete fare le cose regolari, dice giustamente la torre, comunque la faccia. Consorte risponde, esatto, chi è che compra per conto di consorte? Le banche, le cooperative, quindi ho un problema di gara contro il tempo perché sto convincendo questi qui, ma ognuno di loro ha un problema specifico, cioè bisogna parlare con le cooperative, convincere, bisogna parlare con Caltagirone perché ci stia al prezzo pattuito e allora la torre dice, ma che? Devo far fare una telefonata a Massimo all'ingegnere? Devo far chiamare D'Alema a Caltagirone? Perché se Caltagirone lo chiama D'Alema, insomma, Caltagirone, palazzinaro, editore, consorte, guarda ci ho riflettuto, per quello ti ho chiamato, mi devi dare tempo Nicola, fino a domani pomeriggio? E' meglio che Massimo fa una telefonata, perché? Perché a questo punto se le cose non vengono fatte si sa per colpa di chi e poi vanno avanti, poi noi non sappiamo, se venga fatta la telefonata è probabile che non venga fatta anche perché poi Caltagirone ben conoscendo comunque chi c'è dietro a consorte, poi alla fine fa quello che gli dicono e che gli viene suggerito dal clima generale, tenete presente che siamo a pochi mesi dalla vittoria del centro-sinistra, quindi comunque la finanza aveva tutto l'interesse a favorire un gruppo come l'Unipol così vicino ai DS. A questo punto passano alcuni giorni e c'è un altro problema, il 14 luglio 2005 D'Alema parla con consorte sul telefono suo direttamente, D'Alema chiama consorte di prima mattina alle 9.46 per avvertirlo di avere parlato con Vito Bonsignore che è un altro azionista della BNL, è un gruppo popolare europeo e l'altro gruppo socialista europeo, in teoria sarebbero su due fronti contraposti, ma si ritrovano amorevolmente per parlare d'affari, perché? Perché la BNL, perché l'Unipol ha bisogno che anche Bonsignore porti le sue quote in alleanza con consorte dice, onde evitare che invece si schieri con gli spagnoli del Bilbao, se no fuggirebbe una quota di azioni, allora chi va a parlare con Bonsignore? Non ci va consorte, ci va D'Alema e poi telefona a consorte per dargli notizie di come è andato il colloquio, dice D'Alema e consorte, l'uomo del momento, lo sfigato del momento, D'Alema a che punto siete? No, ma non mi dire nulla a che punto siete, no ti volevo dire una cosa, consorte gli dice, è tutto chiuso, D'Alema è venuto a trovarmi Bonsignore? Consorte, sì ci ho parlato ieri, D'Alema che dà un consiglio, consorte, sì se rimanere dentro o vendere tutto, il problema è che Bonsignore chiede, volete comprarle le mie azioni o volete che me le tenga e resti alleato occultamente con voi? E' proprio quello che vuole consorte, che non le vuole comprare le azioni, vuole mettere insieme a tante pulci anche che la pulciona Bonsignore con il suo pacchetto in tasca? Dice D'Alema, voleva sapere se io gli chiedevo di fare quello che tu gli hai chiesto di fare, ecco, che mi viene in tasca a me politicamente, è D'Alema che me la chiede questa cosa o è solo consorte? Risponde consorte, D'Alema, Bonsignore voleva altre cose diciamo, consorte, eh, immaginavo, non era disinteressato! D'Alema, voleva altre cose a latere su un tavolo politico? Ti volevo informare che ho regolato da parte mia, cioè io il favore politico gliel'ho fatto! D'Alema prosegue, lui mi ha detto che resta, ha detto che resta, con il pacchetto in mano, alleato dell'Unipol, è disposto a concordare con voi un anno o due anni, se le tiene lì un anno o due anni per fare da prestanome a consorte, giusto? Il tempo che vi serve, tanto D'Alema gli ha già fatto il favore politico in cambio e consorte, sì, 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 ma lì etc., etc., D'Alema dice, ehi Gianni andiamo al sodo, se vi serve resta, consorte, sì, 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 sì e basta! D'Alema, e poi noi non ci siamo parlati, eh? Consorte, no, assolutamente, lunedì lanciamo l'Opa, abbiamo finito, questi hanno già il controllo della banca e invece di lanciarla prima l'Opa, la lanciano dopo, quindi consorte conclude confessando il suo agiotaggio, cioè la sua truffa ai danni del mercato borsistico, D'Alema naturalmente non fa una piega, come non fa una piega la Torre nel sapere che queste le quote le fanno comprare da società bancarie e finanziarie, anziché improprio. Ultima telefonata che dà il peso, il respiro politico del grande statista, la Torre, è la telefonata che la Torre fa con Stefano Ricucci, sì, perché la Torre parlava anche con Stefano Ricucci, mentre Ricucci stava dando la scalata alla Corriere della Sera, questa è una telefonata del 18 luglio, mentre Fassino telefona a consorte per dire allora siamo padroni di una banca, la famosa telefonata che poi lo ha sputtanato in piena campagna elettorale pubblicata dal giornale di Berlusconi, lo stesso giorno la Torre chiama Ricucci, perché Ricucci ha pure fatto un grosso favore a consorte, rilevando le quote nella BNL di Caltagirone e alleandosi con Unipol, si sente quasi un diesino ad honorem e glielo dice alla Torre, i due sono amiconi, sono affettuosissimi, come se fossero Berlinguer e Renatta, dato che le nuove generazioni sono questa farsa che abbiamo visto, qui invece di Berlinguer e Renatta abbiamo la Torre Ricucci, Nicolino e Stefanino, dice la Torre, Stefano, risponde Ricucci, eccolo il compagno Ricucci all'appello, avrà avuto anche il pugno alzato probabilmente, la Torre, Ricucci, ormai questa mattina a consorte glielo ho detto, datemi una tessera, devi essere ovviamente, perché io non gliela faccio più, vedete che anche qui continua questa commistione, Ricucci telefona a consorte per chiedergli una tessera dei DS, come se consorte fosse il leader dei DS, è la stessa confusione che aveva in testa Fassino quando diceva siamo padroni di una banca, anzi siete padroni di una banca, non capiva bene dove finivano i DS e dove cominciava l'Unipol, eppure uno è un partito, l'altro è un'assicurazione, pensate che roba! Questa mattina ho chiesto a consorte datemi una tessera perché io non gliela faccio più, la Torre, ma ormai sei diventato un pericoloso sovversivo, Ricucci, eh sì, la Torre è un pericoloso sovversivo rosso oltretutto, Ricucci, c'è anche il bollino stamattina, ho preso da Unipol tutto, ho preso tutto a posto, abbiamo fatto tutte le operazioni con Unipol, quindi non ti posso dire niente, come dire, adesso mi dovete eterna gratitudine la Torre, sì sì sì, non possiamo, dobbiamo parlarci un po', queste sono le telefonate che danno l'idea di come è ridotta la nostra politica, di come è succube della finanza, di come ormai questi vengono portati al guinzaglio dai finanzieri, anche da finanzieri da strapazzo come quelli che abbiamo visto qui all'Opera, senza un minimo di autonomia, poi parlano di autonomia della politica, parlano di primato della politica, ma questi, ma quale primato? Qui i testi li scrivono consorte Ricucci e le musiche, al massimo le musiche, gliele fanno scrivere a D'Alema, Fassino e la Torre. Penalmente parlando di queste vicende non si potrà più praticamente parlare perché il Senato continua a non rispondere alla Procura di Milano che vuole usare le telefonate per valutare se la Torre abbia concorso nell'aggiotaggio contestato a consorte e recentemente il Parlamento europeo ha risposto no alla richiesta della Procura di Milano di usare le telefonate per vedere se c'era un concorso di D'Alema nel reato di aggiotaggio contestato a consorte. Ma dal punto di vista politico queste cose dovrebbero essere valutate e bisognerebbe valutare anche quel no del Parlamento europeo, perché il Parlamento europeo è stato intortato dalla Commissione giuridica presieduta da Peppino Gargani di Forza Italia, tant'è che quando ha risposto, ha risposto dicendo ma non esiste più l'autorizzazione a procedere contro i parlamentari, perché ci chiedete l'autorizzazione a usare le telefonate? Usatele pure, tanto si possono processare i parlamentari in Italia dal 1993, evidente che qualcuno l'ha raccontata male questa cosa ai parlamentari europei, li ha intortati e chi può averli intortati, visto che il Presidente della Commissione è uno di Forza Italia e tutti hanno votato Forza d'Italia, DS, Margherita, Lega Nord, Udc, tutti a favore di D'Alema, persino Bonsignore dal resto abbiamo visto i rapporti che c'erano col favore politico a latere. Nessuno ha avuto il coraggio di raccontare ai parlamentari europei che l'Aula di Bruxelles non era chiamata a dare l'autorizzazione a procedere contro D'Alema, di quella non c'è bisogno, era chiamata a dare l'autorizzazione all'uso delle telefonate perché l'Italia è un paese talmente tragicomico da avere una legge, la legge Boato, fatta dalla sinistra e dalla destra insieme, che stabilisce che se il magistrato intercetta un delinquente a colloquio con un parlamentare, per usare le telefonate a carico del parlamentare, anche se l'intercettato era il delinquente, bisogna chiedere il permesso al Parlamento e dato che D'Alema era al Parlamento europeo hanno chiesto il Parlamento europeo e il Parlamento europeo ha detto ma noi non siamo chiamati a darvi l'autorizzazione a procedere, no, siete chiamati a dare l'autorizzazione all'uso delle telefonate, il fatto è che hanno risposto alla domanda che ora è, hanno risposto giovedì e con la risposta giovedì i magistrati che vogliono sapere che ora è, non possono sapere che ora è, non potranno usare queste telefonate, il fatto che in mala fede parlamentari italiani di centrodestra e centrosinistra si siano intortati l'intero Parlamento dà l'idea di come siamo malmessi e soprattutto di come saremmo meglio messi se almeno queste persone che da tre anni si sa che cosa fanno con gli impicci finanziari fossero state mandate a casa, invece se tutto va bene Veltroni perde le elezioni europee e il PD se lo prendono D'Alema e La Torre, passate parola! Ho un grillo per la testa, ho un grillo per la testa